Le rivelazioni dell'ex ministro francese Jérôme Causac nel processo a suo carico apertosi a Parigi è accusato di frode fiscale e riciclaggio. L'ex ministro del bilancio, costretto a dimettersi nel 2013 dopo la scoperta di un suo conto bancario segreto in Svizzera, ammette che quel conto servì per finanziamenti politici all'ex premier socialista Michel Rocard e afferma che a questo scopo furono utilizzati due versamenti della casa farmaceutica Pfizer nel 1993. Ha aggiunto però che Rocard ha deceduto due mesi fa e era probabilmente all'oscuro della vicenda ed ha rifiutato di rivelare i nomi dei suoi interlocutori nella raccolta dei fondi. Tre anni fa, dopo che l'esistenza del conto era emersa grazie ad un'inchiesta giornalistica, Causac aveva dapprima negato, poi riconosciuto dopo mesi da avere nascosto al fisco 687 mila euro, ma aveva sempre affermato che quei soldi erano provenienti dal suo lavoro di medico chirurgo.